400.000 spettatori nel 2010, 7 show indimenticabili, 3 continenti in gara, torna dal 30 luglio al 28 agosto Fiori di Fuoco, il campionato mondiale di fuochi d'artificio. Dal Lago Maggiore al Lago d'Orta, fino alle incontaminate ballate dell'Ossola, le notti dell'estate si illuminano di luci e colori proposti dalle migliori squadre mondiali. Scopri tutte le serate su www.distrittolaghi.it Fiori di Fuoco, l'evento più pirotecnico dell'estate 2011.